Armando Forgione, prefetto di Chieti, si è appena concluso il 41esimo tavolo Salus Spes che da gennaio del 2021 ormai si sta organizzando periodicamente tra la prefettura, la ASL di Chieti, i comuni della provincia di Chieti e le forze dell'ordine per cercare di monitorare la situazione relativa ai contagi da Covid-19. Cosa è emerso nel corso di quest'ultima riunione? Si stanno registrando purtroppo ancora dei contagi in maniera percentuale con forme più evidenti per i minori di età, sotto i 18 anni, per dirla quelli scolarizzati, quelli che vanno ancora a scuola. Quindi il focus era incentrato su di loro ma anche per un certo verso su quelli over 80 perché in talune parti del territorio abbiamo ancora per questa fascia debole. Era necessario anche lì su quelli richiamare l'attenzione di alcuni sindaci di comuni. La collaborazione è stata sempre massima, devo dire, perché con i sindaci sin dall'inizio tutti hanno fatto propria questa lotta contro il virus. Quindi era necessario, come ho detto, richiamare ancora l'attenzione per dire dateci ancora una mano perché questo è un momento decisivo nel quale possiamo, come dire, condurre a termine quello che è un'operazione molto molto delicata che dura da mesi ormai. Le forze dell'ordine in questo momento hanno anche un ruolo fondamentale, soprattutto nell'ambito dei controlli. Quali sono le indicazioni che sono state date? L'indicazione che ci proviene dal signor Ministro è quella di fare in modo che da questi controlli non venga fuori un'azione ossessiva ma che venga fuori un'azione di persuasione. Il controllo deve servire a tutti per far sentire tutti che la vita sta continuando, che le attività commerciali possono continuare, ma tutte quante devono seguire delle regole. Le regole sono quelle che vengono imposte e verranno dall'alto, ma vengono imposte in maniera cosciente, in maniera condivisa, in maniera, come dire, ponderata. Se oggi si cerca di nuovo di restringere il campo di azione è perché c'è una necessità. Il contagio è aumentato, ecco, quindi i controlli è necessario che aumentino, ma sempre salvaguardia di tanti, la maggior parte, di quelli che si sono invece vaccinati. La vaccinazione è un fatto sul quale ormai è assodato che è quello che sta frenando il virus, quindi bisogna convincersi di questo. Noi abbiamo i contagi laddove ci sono meno vaccinati. Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, ma anche in questo caso rappresentante dei comuni per la provincia di Chieti, a questo tavolo convocato con l'ASL e la Prefettura. Il momento della responsabilità è ancora molto forte, dobbiamo tutti quanti continuare a stare molto attenti, vaccinarci e soprattutto rispettare le regole dell'igienizzazione. Ma è come adesso c'è una forte collaborazione con l'ASL, con le istituzioni, con i comuni, con i volontari, quindi stiamo andando veramente bene con le vaccinazioni e per questo mi sento di ringraziare veramente tutti.